Torniamo a parlare dell'elezione di secondo grado che si è svolta nel scorso fine settimana in tutta Italia per il rinnovo dei consigli provinciali. Ne parliamo con Paolo Ceruti, consigliere comunale di Magreglio, che ringraziamo per essere nei nostri studi. Ceruti si è reso protagonista di un'iniziativa particolare, ha lanciato la proposta di un'astensione dal voto, una proposta che ha lanciato nei confronti dei suoi colleghi consiglieri lariani. E com'è andata a questo punto? Allora, noi abbiamo fatto una lettera, anzi un'email a tutti i sindaci pregandoli di comunicarlo ai propri consiglieri. Non sappiamo se questo si è avvenuto o in che forma si è avvenuto. Di fatto sta che i risultati elettorali segnalano un 35% di astensioni. 35% di astensioni contro una media del 20% nazionale e del 20% della provincia di Monza e Brianza. Evidentemente l'appello è servito. Quando poi la Presidente Livio mi dice che è saltato il boicottaggio, prima di tutto il contesto che chiedere l'astensione sia un boicottaggio perché è un diritto di chi deve votare. E in secondo luogo non è fallito perché si è preso il 35% e non è fallito. A cosa mirava questa iniziativa? A cosa mira più che cosa mirava? Noi riteniamo che di fronte a un referendum che ha sancito con la maggioranza enorme che l'ente provincia deve esistere, e secondo me è giusto che esista, che un intermedio ci vuole soprattutto in zone come la provincia di Combo, ci sono tanti piccolissimi comuni, riteniamo che proprio per questa valenza debba essere eletta dai cittadini. Un ente di valenza istituzionale come il Comune e come lo Stato che era al Parlamento deve essere eletto dai cittadini. Questo fatto che siano gli ottimati, cioè dei privilegiati che decidono in Camera Caritati su pressioni di promesse, di contributi o di cose del genere, chi devono nominare, insomma ci sembra abbastanza fuori luogo. Fuori luogo e anche rispettoso della volontà dei cittadini. Ecco, facciamo ancora un ulteriore passo indietro. Torniamo al recente referendum che ha sancito il mantenimento delle province, almeno. E certo, come dicevo prima, l'ha sancito con il 68% dei voti a favore, quindi non si capisce perché la provincia deve essere eliminata. Poi voglio dire, certo, ci sta che ci possono essere delle aggregazioni di province, che possono essere disaggregate, tutte queste cose qui, ma l'ente provincia deve restare e deve essere eletto dai cittadini. Dato canto si sente già qualche voce in giro anche tra i parlamentari. Noi vorremmo mandare la richiesta a tutti i parlamentari di formulare una proposta di legge su questa cosa e abolendo la legge del Rio, che è quella che prevede che ci sia l'elezione in secondo grado. Vorrei anche dire che forse sono stati un po', diciamo, troppo rapidi quelli che hanno voluto fare questa riforma, dando per scontato che la provincia sarebbe stata eliminata, ma dall'altro canto abbiamo fatto male anche i conti col Senato, se per quello. C'è il rischio di svuotare delle proprie competenze un ente importante come la provincia? Dipende cosa vogliono dare alla provincia da fare. Secondo me ha delle competenze, se alcune sono state tolte, che gli vanno ridate. E in ogni caso, anche solo per il personale, hanno eliminato un mucchio di personale, hanno tolto contributi e stanziamenti da parte dello Stato. Io ho detto, per fare un esempio, che voglio vedere se vengono giù 5 o 6 nevicate potenti in provincia di Como, come possa fare la provincia a riuscire a risolvere il problema. Questo lo dico perché la nostra proposta è al di là di chi ha vinto, di chi ha perso le elezioni provinciali. La nostra non è un'accusa agli attuali amministratori. Possono anche aver fatto bene quello che potevano, il loro dovere, quello semmai un giudizio politico. Ma il fatto è che non possono amministrare in queste condizioni. Indipendentemente da quello che è stato il volere dei cittadini tramite il referendum, a detta di Cerutti, cosa ne sarà delle province? Quale sarà il futuro di questo ente amministrativo? Tutto sta se in Parlamento abbriscono le leggi del Rio e ripristinano quelle che sono competenze. Di certo non possono lasciare un ente così che vola nel cielo perché non avrebbe senso. Abolirlo non possono abolirlo e a un certo punto devono prendere una decisione. Siccome la decisione andrà già assunti i cittadini, devono fare il piacere di rispondere a quello che vuole dei cittadini. Io penso che la democrazia è ben alta. La democrazia non è fra comandare gli ottimati, è fra comandare i cittadini. E questo è bene che si mettono in testa a tutti i livelli, da tutte le parti, destra e sinistra, ammesso che abbia ancora un significato questa divisione, sopra e sotto.